114.000 euro freschi freschi per dare l'infa alle casse sociali del Giulianova Calcio, frutto di una sorta di azionariato popolare messi a disposizione da 63 imprenditori su impulso del sindaco Francesco Mastromauro. Già stamani 55 assegni per un importo complessivo di 100.000 euro, la parte restante è in arrivo, sono stati consegnati dal primo cittadino al segretario del Giulianova Massimo Spinozzi. La scintilla è scoccata a seguito della cena di autofinanziamento promossa dallo stesso Mastromauro lo scorso 25 gennaio al ristorante Arlecchino. Lì gli imprenditori sono stati convinti a sostenere il rilancio del calcio giuliese. Questo è un primo importante passaggio con una condizione imprescindibile. Affinché vengano utilizzate per pagare gli stipendi arretrati sia dei dipendenti, perché non ci sono solo i calciatori, che dei calciatori, e per sanare quindi questa morosità o parte di questa morosità. Il fine è quello di evitare penalizzazioni sul campo, perché lei sa che se entro il 16 non si sanano talune pendenze, la Lega potrebbe erogare sanzioni. E per garantire una continuità della società giallorossa, che ha una tradizione nell'ambito della regione Abruzzo, che è unica. È l'unica società che non è mai fallita, non è stata mai ripescata. Nella sala del Consiglio Comunale Mastromauro elenca i nomi di tutti gli imprenditori e le aziende che hanno contribuito e annuncia la nascita dell'associazione Giuliesi per sempre. Insomma, prove tecniche di nuova società. Un passaggio che potrebbe avvenire a fine stagione, con l'auspicio che arrivi la salvezza sul campo. Una nuova compagine che troverebbe lo zoccolo duro in questa ampia cordata. E il messaggio in tal senso è... Il messaggio è che i presidenti passano, i calciatori passano, gli allenatori passano, ma la tradizione resta. A margine, il sindaco Mastromauro ha anche annunciato di voler rivedere la cifra che il Comune versa annualmente al Giulianova Calcio di 120.000 euro. Questa convenzione non può assorbire queste risorse. Io, di fatti, ho già proposto alla mia maggioranza di rivedere questi importi e di destinare parte di questi importi alla ristrutturazione di impianti sportivi in città. Perché c'è il calcio che è importante, ci sono anche tante altre discipline sportive che consentono a nostri giovani di crescere e che meritano massima attenzione.